eccoci qua benvenuti bentornati su penelope e le sue carte eccoci qua siamo nuovamente insieme oggi andiamo a vedere con l'aiuto delle mie splendide sibille se ci chiamerà se ci ricercherà lui o lei naturalmente dipenderà anche dal vostro sesso e da chi da chi state aspettando naturalmente vi ricordo potete anche scegliere di ascoltare tutti e tre i mazzetti magari per tre persone diverse con questo chiedete di tizio con questo chiedete di caio e con quest'altro chiederete per sempronio quindi voglio dire potete prendere tre piccioni in un colpo solo detto questo quindi qui andiamo a vedere se la persona in questione ci chiama ci scrive può essere un datore di lavoro può essere un ex compagno o compagna può essere un'amica un amico con cui abbiamo litigato insomma lo sapete voi noi andiamo a vedere se riceveremo notizie da questa persona sotto ogni forma e in qualsiasi modo cioè che ci mandi pure anche un piccione viaggiatore basta si faccia vivo viva è giusto giusto allora come vedete non ho messo un segna mazzetto perché sto usando tre mazzetti tre mazzi di carte proprio completamente diversi l'uno dall'altro quindi scegliete semplicemente il mazzo che vi piace di più quindi pensate al volto della persona in questione e poi decidete con quale mazzetto volete una risposta in merito va bene detto questo andiamo a vedere se riceveremo questa benedetta telefonata oppure no andiamo vediamo la risposta di questo mazzetto andiamo a vedere se riceveremo questa chiamata questa è una stesa un po particolare un po articolata e quindi andiamo a vedere anche qualche dettaglino in più qualcosa allora spero che le carte siano inquadrate bene e le vediate bene andiamo un po penso di sì a questo punto allora dunque dunque beh qui fanno vedere proprio almeno in questo momento perché qui io parto dal passato vedo il presente e il futuro quindi qui mi fanno vedere che quest'uomo questo soggetto tutto dipende da lui quindi qui quasi certamente siete una donna o comunque anche se siete un uomo mi state chiedendo qua di un signore di un uomo ok se si fa vivo questo è quello che credo e qui fanno vedere che questa persona già si è chiusa già si è isolata cioè non si sta facendo non si sta facendo sentire io credo che con questa persona vi siate sentiti sentite svariate volte quindi qui potrebbe essere stato anche un rapporto fra virgolette come si dice di corrispondenza ok quindi qui ci siamo scambiati diversi messaggi abbiamo parlato abbiamo chattato magari per un po di tempo quindi qui la cosa si è protratta per un po poi a un certo punto i contatti si sono interrotti e si sono interrotti per un bel po di tempo comunque se del tempo ancora non è passato ne passerà ne passerà ancora perché qui vedo contatti bloccati fermati per un periodo di tempo ok io sinceramente al momento presente ci vedo ancora il silenzio quindi qui questa persona ancora se ne starà per i cavoli suoi quindi qui non ci vedo contatti non ci vedo contatti a breve è assolutamente no anzi posso vedere questa persona che proprio si allontana però però nelle carte del futuro quelle più avanti non c'è un epilogo felicissimo ve lo dico così come va detta però qui un qualcosina queste carte mi lasciano sperare perché come vedete qui in verticale io proprio la lettera lui e la nave la barca con la nave quindi qui vi fanno vedere con qualcosa dovrebbe dico dovrebbe arrivare perché comunque sia qui il distacco lo vedo quindi ricapitolando queste notizie per il momento no è una persona con cui abbiamo chattato con cui abbiamo avuto un rapporto di un qualche tipo io credo di di corrispondenza più che altro va bene comunque un rapporto che si è interrotto quindi qui la persona non la stiamo sentendo da un pezzettino di tempo comunque un pezzetto di tempo passerà prima che la possiate risentire per il momento qui no qui c'è ancora di stacco quindi al momento presente ancora un pochino qui io credo che i tempi si allungheranno perché per il presente il presente va da ora a un tot di tempo a volte un mese altre volte tre mesi insomma varia molto a seconda delle estese nel futuro un pochino più là qui un qualcosina io la posso vedere la posso vedere però non vedo l'incontro cioè non vi vedo insieme vi vedo magari poter comunicare un'altra volta ancora ecco però qui sinceramente il distacco c'è cioè c'è proprio l'allontananza il distacco da questa persona quindi una qualche notizia e fra un bel po di tempo non subito non vedo altro oltre a questo è ok vediamo adesso la risposta per questo mazzetto di carte vediamo se riceveremo queste notizie oppure no allora vediamo un pochino vediamo 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 allora qui qui fanno vedere fanno vedere che a parte qui per il momento tutto è fermo è qui ci sono proprio anche se devo dire qui un sentimento c'è o c'è stato fra voi qui c'è stato un affetto un sentimento un'amicizia chiamatela come vi pare qui come vedete c'è il cuore quindi qui un qualcosa di bello fra voi c'è stato anche se qui vedo che c'è di mezzo c'è di mezzo un'altra donna quindi che voi siate la moglie che siate l'amante poco importa qui c'è una rivale ecco mettiamola così una rivale per voi va bene nel mezzo quindi questo questo distacco diciamo così in questi problemi ci possono essere essere stati a causa di ciò a causa di questo io qui non escludo che questo sia un uomo sposato perché vedo la casa quindi comunque qui c'è una relazione stabile seria nel mezzo sicuramente ora io qui una qualche novità la vedo sinceramente la vedo con questa persona anche se piccola qui mi parlano di un qualcosa di piccolo quindi qui un qualcosina si dovrebbe smuovere però come vedete le ultime carte qui non sono molto favorevoli a una storia o comunque a un riprendere i rapporti un riprendere i contatti quindi io dalle carte centrali qui le vedo belle vedo il fanciullo figurati quando c'è il bambino poi il cuore bambino quindi qui però qui c'è di mezzo un'altra persona e la scelta che quest'uomo sarà questa donna sarà costretto costretta fra virgolette insomma che arriverà a fare non credo siate voi ecco quindi qui diciamo mettiamola così c'è un movimento ci sarà un movimento di un qualche tipo quindi qui un accenno una novità una notizia un qualcosa di carino ci sarà quindi una notizia una novità per qualsiasi cosa abbia chiesto naturalmente ok che sia lavoro che sia un'amica un amico un uomo una donna eccetera però finisce lì finisce lì c'è c'è di nuovo il fermo di nuovo l'andare a impantanarsi capito qui c'è un bivio c'è una decisione c'è una strada qui bisogna svoltare o a destra o a sinistra però qui almeno per il tempo previsionale di questa stesa non vedo arrivare ad una scelta ad una decisione di questo di questo tipo quindi qui una qualche novità ci potrebbe essere ma capito ecco però qui non si smuove nulla qui non si smuove nulla no no non è positivissima come stessa è questa sinceramente io vi vedo più verso un'altra persona sicuramente arriverà una novità per voi questo lo vedo questo lo lo vedo ma con questo personaggio con questa donna insomma con chi avete chiesto insomma non ci vedo grandi cose ecco vediamo adesso questo mazzetto andiamo a vedere che risposta ci ha dato vediamo allora devo dire che non è tutta sta botta di però per quello che abbiamo chiesto allora andiamo a vedere andiamo per gradi qui fanno vedere c'è stato già un ritorno di questa persona quindi qui sicuramente qualcosa era già successo fra voi no che aveva portato anche diciamo così ad una discreta sofferenza perché qui lo vedo il patimento e abbiamo sofferto e stiamo soffrendo di nuovo però come dicevo secondo me questa persona uomo donna che sia già aveva dato segni di sparizione o comunque ci aveva già dato del filo da torcere sinceramente in un qualche in un qualche modo ok e poi era tornato se era rifatto vivo perché qui ci vedo che c'era stata una perdita diciamo così e poi il ritorno il come ti posso dire il rinascere diciamo così delle nostre speranze allora qui la farò breve al momento presente no quindi qui è come se la persona vi avesse deluso avesse messo messo diciamo sia una croce sopra questo discorso quindi qui c'è stata proprio la cioè c'è il silenzio diciamo c'è il distacco nel momento nel momento presente nuovamente lo ripeto perché io vedo che in passato questa persona già sarà fatta viva e io credo che lo farà di nuovo quindi qui io ci vedo di nuovo una discussione vi vedo di nuovo riparlare quindi qui in che modo cosa vi direte non so perché non ci vedo tutta sta botta d'allegria quindi qui ci sarà un po da discutere fra di voi con questa persona sicuramente ma io non ho chiesto se ve lo sposate se ve la sposate se vi amate eccetera io ho chiesto se riceveremo notizie da questa persona chiunque essa sia magari neanche di amore stiamo parlando qua ok però qui ci vedo nuovamente un parlare nuovamente una discussione però ecco quello che vi volevo dire perché bene o male che un attaccamento c'è quindi sicuramente la persona si rifà viva come ha già fatto un passato però attenzione che non vi faccia di nuovo soffrire anche come ha già fatto in passato comunque qui la risposta è sì io qui ho un movimento una notizia una notizia una novità da parte di questa persona la vedo vedo una persona che tornerà a farsi sentire quindi poi come dicevo il come perché cosa ne sarà di voi questo lo vedremo in un altro video magari va bene quindi care fanciulle e cari fanciulli io anche per questo video ho concluso vi ricordo naturalmente di iscrivervi a questo a questo canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video che ora in poi pubblicherò io che dirvi vi ringrazio come sempre dell'affetto oceanico di tutti i vostri riscontri che mi fanno tanto tanto contenta vi abbraccio vi bacio vi aspetto sempre qua su penero per le sue carte al prossimo video e noi ci rivediamo naturalmente alla prossima ciao ciao